ben ritrovati a un nuovo appuntamento con in dialogo i lombardi lo spazio che settimanalmente dedico al dialogo con voi che mi inviate le domande che hanno a che fare questa settimana con la guerra ma non solo partiamo subito no fabio non ci siamo proprio questo governo ha votato anzi una parte del parlamento per il momento il senato ha votato un provvedimento che riduce l'iva sulle armi ricordo che il partito democratico fa parte di questo governo vorrei davvero capire perché il partito democratico continua a sostenere queste politiche sciagurate di un governo draghi che uno dei governi peggiori di questo paese ea continua a essere al governo con lega forza italia italia viva che sono tra i partiti peggiori che esistono in questo paese anche se voi vi credete assolti siete per sempre coinvolti diceva un bellissimo pezzo di brano di fabrizio de andrea ecco io vorrei una riflessione su questa cosa da parte tua perché dopo l'aumento delle spese militari anche l'abbassamento dell'iva sulle armi secondo me è una sciagura per questo paese ugo da milano ciao grazie ugo per le sempre puntuali e puntute riflessioni anzitutto preciso una cosa che il governo draghi sia uno dei peggiori di questo paese non so se sia poi così vero almeno io non lo considero tale ho visto governi ben peggiori non che questo sia il migliore ci mancherebbe però un governo di emergenza come di emergenza anche la compagine che lo sta sostenendo quanto poi al giudizio sugli altri partiti lo lascio naturalmente alla responsabilità di ugo io ovviamente sono nel partito democratico lo ritengo migliore o meno peggio di altri però non mi arrogo il diritto di giudicare in maniera del tutto negativa anche gli altri partiti detto questo la riflessione sull'aumento delle spese militari e sulla cancellazione la riduzione dell'iva sul trasferimento di armi è comunque interessante bisogna però chiarire di cosa stiamo parlando anzitutto al momento non c'è stato un aumento della spesa militare ma c'è stato un ordine del giorno votato o meglio proposto da fratelli d'italia in chiave molto strumentale e rilanciato in chiave altrettanto strumentale dal movimento 5 stelle che prevede un aumento della spesa militare secondo degli impegni presi con la nato quindi a livello internazionale nei prossimi anni fino a raggiungere il 2 per cento del prodotto interno lordo poi è stato precisato che questo 2 per cento verrà raggiunto forse nel 2028 detto questo anch'io sono preplesso sull'aumento delle spese militari tra poco vi proporrò una riflessione anche su questo fronte citando un articolo di fabrizio battistelli presidente dell'archivio per il armo comparso sulle pagine di avvenire vorrei dire due parole però anche sulla la cancellazione di fatto dell'iva sulle armi in realtà è la cancellazione sulle armi trasferite ad altri paesi in pratica è una cancellazione dell'iva che il che lo stato pagherebbe a se stesso sostanzialmente sarebbe una partita di giro perché le armi trasferite ad altri paesi secondo delle regole che sono previste dalla costituzione solo in chiave difensiva sono finanziate dello stato quindi lo stato pagherebbe l'iva che entrerebbe poi nelle casse dello stato quindi sarebbe una complicazione contabile chiamiamola così certo dal punto di vista simbolico dire che viene cancellata l'iva dalle armi fa un po impressione forse non è un messaggio giusto però è utile precisare che è limitato a quello e l'effetto è esclusivamente il fatto che non ci sia una duplicazione un versamento da parte dello stato per avere poi un ristoro dallo stato stesso quindi una sorta di partita di giro chiedo scusa per la semplificazione però per farmi capire detto questo ugo hai perfettamente ragione quando si tratta di riflettere sulla necessità di non andare verso un aumento indiscriminato della spesa militare dando messaggi devastanti in questo momento ma sentite cosa scrive fabrizio battistelli cosa ha scritto sulle colonne di avvenire ribadisco presidente dell'archivio per il disarmo solo un pacifismo assoluto e quindi irrazionale può escludere che una società si è esposta a minacce dunque che essa non se ne debba difendere il punto è affrontare la questione della difesa non nel modo impulsivo dogmatico proprio dei momenti di emergenza bensì con metodo nelle analisi ed equilibrio delle soluzioni se l'italia e l'europa hanno l'obiettivo di una difesa comune e quello di uno spazio di libertà sicurezza e giustizia previsto dai suoi trattati è necessario però rispondere ad alcune domande è logico cominciare dal dire che si spende troppo per poco per la difesa e che si deve spendere di più oppure è logico cominciare dal dire quali devono essere gli obiettivi politici di questa spesa seconda domanda il confronto è di competenza unicamente dei poteri esecutivi e piuttosto deve coinvolgere a fondo le istituzioni rappresentative come i parlamenti nazionali e parlamento europeo e comprendere anche attraverso i media le comunità scientifiche e i cittadini insomma vogliamo o no fare un vero dibattito pubblico una discussione sulla modalità di difesa comune sono temi continua battistelli sulle colonne di avvenire per cui bisogna coinvolgere tutti i cittadini a livello nazionale ed europeo si apre un confronto serio si dimostri perché siano insufficienti oltre 300 miliardi di dollari che nel 2020 hanno collocato l'unione europea al secondo terzo posto nel mondo per spese militari dopo gli stati uniti e la cina e circa tre volte più della russia si argomenti per quale motivo sia preferibile che queste imposti imponenti risorse siano dispersi in 27 bilanci distinti autonomi l'uno dall'altro e si verifichi se il fatto di unificarli in un unico bilancio non porti a possibili risparmi anziché ad aumenti dissennati e assolutamente a critici della spesa su questo io sono disposto a ragionare anzi bisogna ragionare perché non è assolutamente logico che si vada sull'impulsività dell'emergenza a deliberare un aumento indiscriminato di spesa militare si ragioni su questi punti perché allora probabilmente si potrebbe anche risparmiare detto questo si ragioni anche sul modello di difesa che si vuole innestare in chiave europea altrimenti davvero non ci siamo quindi grazie ugo non sono d'accordo con tutte le tue valutazioni sono d'accordo con la necessità che sono temi talmente seri che devono essere oggetto di un dibattito pubblico altra domanda ciao fabio sono marcello so che il tema della guerra è un tema che ci angoscia tutti però io non riesco a capire come mai soprattutto noi occidentali pur condannando giustamente tutti i fatti bruttissimi che abbiamo visto su tutte le televisioni e di cui sappiamo quasi certamente di chi è la responsabilità non capisco perché soprattutto noi gli europei tendano a effigidirsi in posizioni che non fanno che acuire e rendere più duro il confronto mi sembrerebbe più che possibile cercare di trovare una soluzione dialogando cercando di trovare un canale con la russia di putin sapendo che comunque è una situazione molto difficile ma continuare a irrigidire a parlare di armamenti a parlare di corsa appunto ad aumentare il pil destinato agli armamenti con tutti i problemi che ci sono non mi sembra la cosa più utile continuare questa guerra nuoce a tutti nuoce alla russia nuoce all'europa nuoce al mondo intero cosa ne pensi grazie marcello per questa riflessione penso che continuare la guerra nuoce a tutti questo non c'è dubbio e sia una sconfitta dell'umanità una guerra assurda una guerra illogica una guerra davvero che non ha alcun senso però bisogna capire come se ne può uscire chiaro che non può essere la soluzione militare quella che ci si propone come obiettivo per l'uscita da questo conflitto non è opzionabile il fatto che debba vincere uno o l'altro e distruggere il nemico questo non è possibile ci deve essere un riconoscimento reciproco ci deve essere certo un'apertura al dialogo però un dialogo che deve partire da un elemento la cessazione delle ostilità se non c'è un vero cessato il fuoco la trattativa non può davvero cominciare ed è quanto ho ripetuto anche in altre occasioni poi per il resto non so se siamo noi occidentali a irrigidirsi a irrigidirci nei confronti di Putin o se non sia Putin che sta decidendo di fatto quello che ritiene più vantaggioso per se stesso è vero probabilmente aveva immaginato una guerra lampo per risolvere la questione in poco tempo ma siamo proprio certi che l'idea di Putin adesso sia quello di una disperazione tale per cui deve andare avanti il più possibile qualcuno sostiene ad esempio che visto che c'è il 9 maggio che c'è una delle più grandi manifestazioni in Russia delle forze militari la parata della vittoria della seconda guerra mondiale che Putin vuole terminare la guerra per allora e quindi ci aspettano settimane anche più crude più difficili perché vuole portare a casa gli obiettivi per avere quella parata come occasione per dire ai suoi all'interno della Russia che lui ha vinto questo potrebbe essere una lettura un'altra lettura invece che Putin stia facendo un altro ragionamento cioè quello di impossessarsi delle risorse strategiche ed energetiche del Donbass e fare una sorta di guerra non totale all'Ucraina ma una guerra mirata su altri fronti per poi ottenere quello che davvero vuole cioè il controllo delle materie prime e dell'energia. Sono tante le ipotesi in campo strategiche sta di fatto però che il primo obiettivo deve essere quello di far finire questa maledetta guerra che tante atrocità ci sta proponendo. Io per continuare la riflessione su quanto Marcello ha proposto prendo a prestito alcune delle riflessioni che ha proposto Fulvio De Giorgi storico in un suo articolo che sarà pubblicato sul prossimo numero di appunti di cultura e politica della città dell'uomo e anticipato proprio in questi giorni dal sito c3dem.it. Sentite come ragiona De Giorgi su queste tematiche che Marcello mi ha proposto a livello di riflessione. De Giorgi scrive chi vuole affermare le sue ragioni con la forza può essere fatto ragionare solo con la forza. È l'unico linguaggio che capisce. Dunque rispondere alla guerra aggressiva con la guerra è giusto. La difesa giustifica la guerra. Si tratta di guerra giusta. È una risposta etica della quale l'aggredito ha diritto e della quale gli altri che assistono all'aggressione hanno dovere se non vogliono sottrarsi alle loro responsabilità. Questa è una premessa che condivido e che è necessaria che però non può bastare. Non ci si può fermare lì perché altrimenti è la guerra per la guerra. E allora sentite cosa aggiunge Fulvio De Giorgi. Dobbiamo al più presto uscire dalla logica binaria che ci riduce e appiattisce su dilemmi specifici. Mandare le armi all'Ucraina o non mandarle? Rimandare i patria diplomatici russi o non rimandarli? Interrompere subito l'acquisto di gas russo o non interromperlo? Bisogna andare oltre questo elemento. Perché? Perché c'è l'essere ideale che guarda la guerra come crimine assoluto e vuole la non violenza secondo un principio speranza ottimistico e massimalista. C'è l'essere reale che guarda la guerra come catastrofe naturale e vuole un'azione realistica tendenzialmente pessimistica e graduale secondo un principio responsabilità. Ma ci vuole anche una terza dimensione, cioè andare oltre questo pensiero binario. Quella dell'essere morale che guarda la guerra come follia e di conseguenza si impegna a portare l'essere reale, quello del realismo di prima, sempre più verso l'essere ideale secondo un principio fraternità che accoglie in sé il principio speranza. Se adottiamo questa logica ternaria, cioè diversa dal pensiero binario, con il suo primato del principio fraternità, allora è chiaro l'impegno morale di tutti gli esseri umani razziocinanti deve essere quello di andare verso un ordine mondiale diverso da quello che si sta prefigurando proprio oggi. È quindi un elemento di forte impegno politico. De Giorgi dice che è molto deluso dall'assenza di strategia e visione politica dei paesi occidentali, dell'Unione Europea e anche dei partiti italiani. E allora qual è il traguardo dei traguardi secondo De Giorgi? L'obiettivo degli obiettivi. Il più grande è necessario e l'interdizione, l'eliminazione, la cancellazione definitiva e totale della guerra, come già aveva visto Luigi Sturzo quasi un secolo fa. E questo obiettivo, che è l'obiettivo primo, deve innervare politiche internazionali e sovranazionali di tipo giuridico-istituzionale, costruendo progressivamente le proprie travature. Questo significa sostenere solo le scelte coerenti con quell'obiettivo, quindi non aumento delle spese per le armi ma la loro riduzione e progressivo disarmo e smilitarizzazione. E poi si chiede De Giorgi, è mai possibile che pressoché tutti i leader europei, che pressoché tutti i politici democratici italiani siano attestati sul realismo e solo sul principio di responsabilità? Certo è necessario, ma insieme ci deve essere un riferimento all'essere ideale, quell'essere ideale che deve costruire le strade per poter eliminare la guerra come elemento di soluzione dei conflitti tra i popoli. E' su questo che bisogna ragionare. Allora diciamo così, nella contingenza attuale, caro Marcello, dobbiamo essere realisti e dobbiamo far sì che si esca da questa guerra, ma riconoscendo il diritto al popolo ucraino di difendersi e di assedersi a un tavolo delle trattative per non essere umiliato o ammientato. In prospettiva però la politica deve lavorare perché ci sia un diverso ordine mondiale, questo è necessario e non lo stiamo facendo. Qualcuno potrebbe dire sì, ma bisogna farlo dopo, adesso l'urgenza è quella di far terminare il conflitto. Però la politica, attenzione, deve cominciare a lavorare da adesso per costruire anche questo principio ideale di superamento dei conflitti. Altrimenti saremo sempre di fronte a un ONU che non è in grado di dare risposte e che sembra lì impotente e saremmo sempre di fronte a un realismo politico che metterà avanti a tutto il resto la necessità di armarsi, la necessità di una realpolitik che arriva sempre comunque a compromessi, che ci vuole, però non basta e se non c'è quella visione di più ampio respiro siamo tutti sconfitti. Quindi realismo sì, ma anche una forte idealità che nella politica attuale manca. Diciamo così, forse qualche segnale da parte dell'Europa sta arrivando, la visita di Ursula von der Leyen e di Borrell a Kiev è un gesto strategico ma è anche un gesto ideale perché è il luogo in cui l'Europa deve essere in questo momento Kiev e l'Ucraina. Ma non può fermarsi lì, non ci si può fermare appunto alla logica binaria come diceva il professor De Giorgi, ma bisogna ragionare anche in termini di possibili nuovi orizzonti che solo la politica può aprire. E anche su Putin certo, apriamo, è necessario un dialogo anche se dà fastidio, che affidabilità può dare Putin? Però è l'affidabilità di trattative che se inserite all'interno di un contesto politico più ampio possono aprire anche degli scenari nuovi. E guardate, l'unico luogo politico che può essere in grado di far questo è l'Europa in questo momento, che deve essere unita, deve essere coraggiosa e deve essere lungimirante. Bisogna puntare su questo. Poi ci sentiamo tutti inadeguati sicuramente come politici, ma dobbiamo provare ad alzare un po' riguardo a risolvere i problemi contingenti, ma anche a immaginare un futuro diverso, altrimenti saremo sempre inchiodati a quei problemi. Anche oggi dunque abbiamo parlato tantissimo di guerra in questo spazio, ma sentite quest'ultima domanda che ci permette di cambiare argomento. Salve Fabio, dunque tra le tante notizie che abbiamo sentito in questi giorni per la maggior parte brutte, ce n'è una che secondo me ovviamente nell'economia delle notizie è stata un po' persa di vista, ovvero questa sera il Presidente della Repubblica sarà Procida perché Procida è stata scelta come capitale della cultura 2023. Allora è la prima volta di un'isola per lo più del sud, per lo più non capoluogo. Quindi cosa consiglieresti alle autorità campane per cogliere veramente questa importante nomina per riscattare l'immagine un po' farsi carico di tutto il sud, capisco che è un po' difficile, però veramente puntando su quello che il nostro petrolio, il turismo, lo si dice molto spesso, allora su quale leve far breccia per poter coinvolgere tutta la comunità in veramente un processo di sostenibilità anche in chiave culturale e turistica? Grazie mille Fabio. Grazie a te Silvia per questa interessante domanda che ci permette di cambiare argomento e di grande attualità anche perché effettivamente proprio ieri sera il Presidente Mattarella era Procida per inaugurare l'anno da capitale della cultura, della splendida isola del Golfo di Napoli, meno conosciuta rispetto a Capri e a Ischia, però davvero molto molto bella. Io non sono in grado di dare consigli alle autorità campane o a chi che sia, però sapete cosa faccio? Vado a recuperare alcune delle parole che ha detto proprio ieri sera il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Procida. Sentite, Procida è capitale perché è esempio di quella cultura italiana diffusa che trova espressione nelle cento città e nei tanti borghi e che rappresenta per essi e per l'intero paese un volano importante di crescita. Sì, la cultura è motore di crescita, continua Mattarella, è spinta all'apertura, moltiplicatore e di energie civili, è occasione di confronto rispetto dell'altru diversità e ricerca di innovazione. La cultura attrae turismo e rende questo turismo più maturo, più capace di conoscere e di apprezzare, non soltanto di guardare distrattamente. La cultura non è isola, è il motto che Procida ha scelto e che è stato riproposto in questi giorni e questa scelta fa comprendere, continua il Presidente Mattarella, che Procida ha raccolto la sfida. La cultura non è un luogo separato dal contesto sociale, una nicchia di attività umane voluttuarie o superflue, bensì bellezza che si trasmette, pensiero che arricchisce e conoscenza, etica, dialogo, emozioni. Per rispondere ancora alla domanda di Silvia colgo ancora queste altre parole del Presidente Mattarella. Procida ha vissuto intensamente il procedere dei secoli ed è stata teatro e officina di mutamenti, di passioni, di idee. La stratificazione di esperienze e di saperi vi ha composto un vero e proprio atlante storico che così si mostra ad abitanti e ospiti. Un tempo luogo fortificato e oggi luogo aperto, un tempo luogo di reclusione e oggi luogo di accoglienza, espressione di una comunità in cammino che intende valorizzare i propri spazi pubblici e i propri beni comuni. E poi il Presidente Mattarella ha ricordato come il patrimonio culturale genera patrimonio morale, in cui risiede la civiltà di un popolo, genera umanesimo e sono risorse che permettono ai popoli di ripartire, di rialzarsi, di ricostruire sulle macerie, di riprendere a dialogare e di costruire su orizzonti comuni. La cultura poi è risposta, è risposta forte anche alla pace e si costruisce pace attraverso la cultura e tutti sappiamo di quanto c'è bisogno di pace proprio in questi momenti. La cultura può essere momento di ricucitura, di relazioni, di rapporti e di ricostruzione della pace. Fin qui quindi il Presidente Mattarella che ha già, Silvia, ha dato alcune risposte secondo me interessanti su come si possa valorizzare attraverso la cultura il turismo e i luoghi della nostra bella Italia. Io però provo a dire anche un'altra cosa. Cosa manca secondo me spesso ai nostri luoghi delle aree interne, ovvero le aree più lontane dai grandi centri, più lontane anche dai grandi flussi turistici. Manca la capacità di raccontarsi, cioè di trovare il modo di raccontare la propria storia e le proprie bellezze. Laddove si riesce a trovare una chiave per raccontare i luoghi, questi luoghi rinascono e diventano davvero attrattivi. Faccio degli esempi, provate a pensare la fortuna che sta conoscendo la costa sud della Sicilia grazie al racconto dei romanzi dedicati a Montalbano e della serie televisiva di Montalbano. Come quei luoghi dimenticati da tutti abbiano recuperato una centralità culturale e anche turistica grazie a questo racconto perché Camilleri racconta quei luoghi. Un'altra modalità per raccontare i luoghi è ad esempio quella dell'enogastronomia, del vino in particolare. Quanti luoghi italiani hanno riscoperto una nuova identità, una nuova attrattività grazie al racconto del vino? Si potrebbero fare tantissimi esempi, ad esempio mercoledì io sarò tra l'altro a Vini Italy in visita col Consiglio regionale proprio per andare a testimoniare il sostegno a chi attraverso la cultura del vino sta rilanciando tanti e tanti luoghi d'Italia. E a proposito di turismo proprio questa mattina parteciperò all'inaugurazione della BIT a Fiera Milano City a Milano perché anche il turismo è un modo per rilanciare il nostro paese, il petrolio del nostro paese diceva giustamente Silvia nella sua domanda. E da lì come si può ripartire? Anche qui con un turismo emozionale, un turismo culturale, un turismo di relazioni, non il turismo mordi e fuggi, il turismo dei grandi numeri, ma il turismo che sa apprezzare e raccontare con lentezza, con profondità anche i nostri territori. Ci sono dei luoghi splendidi che magari abbiamo tornato, abbiamo riscoperto o siamo tornati a visitare grazie anche alla pandemia che ci ha impedito nei due anni che ci siamo lasciati alle spalle, magari di andare all'estero. Ecco, raccontare i luoghi, la narrazione dei luoghi, delle loro storie è un modo per valorizzare al meglio questa grande risorsa che abbiamo. E l'Italia, guardate, non è seconda a nessuno in questo. Bisogna però riscoprire questa capacità, anche nelle forme di accoglienza turistica, perché tante volte, oggettivamente, da noi fino ad oggi costavano tanto le offerte turistiche e non erano sempre capaci di andare in questa profondità di racconto dei luoghi. Quindi risponderei così, Silvia, alla tua domanda. Ti ringrazio per la sollecitazione. Facciamo un grande in bocca al lupo approcci da Capitale della Cultura per questo 2022. E ricordiamo, tra l'altro, che la Lombardia avrà una prima dal punto di vista della Capitale della Cultura, perché ci saranno due città, Bergamo e Brescia, che nel 2025 saranno capitali della cultura italiana. E davvero sarà anche quella un'occasione straordinaria per raccontare la Lombardia. Basta, ci fermiamo qui. Vi ringrazio per aver avuto la pazienza di seguirmi. Spero che lo abbiate fatto fin qui. Io vi do appuntamento tra sette giorni per vedere, insomma, se ci saranno delle vostre domande faremo anche la puntata pasquale, altrimenti magari ci prendiamo una settimana di pausa. Se così fosse, auguro a tutti voi fin d'ora una buona settimana santa e una buona Pasqua. Se invece arriveranno delle vostre domande, ci risentiamo tra sette giorni per rifarci gli auguri per una Pasqua di risurrezione e di pace. E tutti sappiamo quanto ne abbiamo bisogno. Alla prossima! Grazie a tutti!